Abdul Qadir in preda alla furia caccerà fuori di casa Betul e Sermin che si troveranno ancora una volta senza un tetto sulla testa. Abdul Qadir prenderà questa decisione per dimenticare Betul che ha preferito Kolak per amore del potere e del denaro. Le cose nella SOAP si complicheranno quando Fikret, all'oscuro di tutto, organizzerà una cena per fare la proposta a Zuleyha, ignaro che lei stia per sposare Hakan. La puntata serale di Terra Amara andrà in onda il 12 aprile 2024 alle 21.20 su Canale 5.